C'ho una cosa qua che la farà tornare come ai vecchi tempi, golosaccio! Eccola qua! Con questa qua lei dopo potrà mangiare tutti i dolci che vuole, cardinale. Ora vediamo se mi ricordo, ecco qua, ecco, vedi? Questa qua, sa che c'è la ragione lei? Questa qui in Italia non si trova, questa viene dal Sud America, ecco. Bisogna tagliarla. Svella e pronta. Eccolo su, un po' d'acqua. No, no, fermo, che cattinale, non con l'acqua. Questa qui bisogna pigliarla col naso, col naso si prende questa qua. Ma questa? No, no, non così, questa non si piglia col naso direttamente così. Ci vuole una cosa per tirare su col naso. Ma adesso basta, io non voglio avere nulla a che fare con questa roba, voglio una spiegazione, dove l'ha presa? E' vero, perché sembrerebbe che è merito mio, invece no. Non è tutto merito mio, posso? Me l'ha data il ministro. Ma che cosa sta dicendo? Ma lei che pazzo! Io non la conosco. Ci conosciamo però, il merito è suo. Quella me l'ha data lei, è giusto. Il merito è suo, non mi voglio prendere. Insomma, chi ce l'ha queste dieci mila lire? Dieci mila lire? Ma nessuno c'è dieci mila lire? Signore, dieci mila lire? Per cosa? Ma lo so io chi ce l'ha, cardinale, belle e pronte. Lo so io chi ce l'ha, aspetti un secondo, un secondo. Ce l'ha proprio belle e pronte. Dove l'ha me? Qua, scusi, posso, ministro? Non vorrei però... Eppure ce le dovrei... Ma vero, ho visto io, mettele di là, ce l'ha messo... Eccole qua, eccole qua! Eccole qua, belle e pronte per tirare. Grazie, ministro. Eccole qua, eccole qua, cardinale, belle e pronte per tirare. Bisogna chiudere un buco e tirare su con quell'altro, forza! E che mi fa fare tutto a me? Un buco, quale preferire? Cardinale, su, forza! Questo buco qua, ecco, giù. Giù, cardinale, giù. Giù con la testa, se no non c'è... No, ministro, per il piacere di far vedere lei come si fa. Che schifo! Signori, signori, vi prego, vi prego, cerchiamo di mantenere la calma. Credo che sia chiaro a tutti che abbiamo a che fare con un pazzo criminale! Basta!